Asrem, in arrivo 9 assunzioni con 54 operatori sanitari che verranno assunti a tempo indeterminato. C'è ancora da attendere invece per la stabilizzazione di 56 operatori sociosanitari. In quest'ultimo caso infatti bisognerà attendere il giudizio del Tarmolise che decreterà quali saranno le procedure da adottare nell'udienza pubblica che si terrà il 23 ottobre prossimo. Stiamo somministrando importanti iniezioni di personale nel nostro sistema sanitario regionale ha affermato Giovanni Di Santo, direttore generale di Asrem. Abbiamo operato nel rispetto delle normative ed ora attendiamo il pronunciamento del Tarmolise che ci indicherà solo ed esclusivamente come procedere con le stabilizzazioni. A ciò si aggiunge l'attività dell'Asrem nel reclutamento di 14 tecnici sanitari di radiologia medica che opereranno nelle postazioni dove sono stati installati i nuovi macchinari per le TAC e le risonanze magnetiche con turni anche pomeridiani. I tecnici inoltre si occuperanno dello screening mammografico. Un ulteriore contributo per snellire le liste di attesa al ribadito Di Santo ma soprattutto per rispondere alle esigenze delle comunità molisane che hanno diritto a certezza e sicurezza di cure attraverso il supporto di validi professionisti ed importanti ed innovative tecnologie.